Ancora una volta ritorna il teatro qui a Carinaro, sulla scena la commedia non ti pago di Edoardo De Filippo. Siamo con il regista Giovanni Truosolo, ancora una volta qui a Carinaro torna il teatro e ancora una volta tutti i carinaresi parteciperanno attivamente. Sì, ormai è una tradizione che si ripete da quasi 30 anni, questa è una data storica, il 26 dicembre ormai è istituzionale, diciamo una cosa che rappresentiamo con il teatro. C'è sempre pure Cionora, la presenza pure il cardinale Sepe ogni anno ci viene a fare visita, quest'anno ritorniamo con un lavoro che è stato uno dei primi lavori che abbiamo fatto noi come compagnia, non ti pago. Mi ricordo che io ho iniziato a recitare quando avevo 12 anni con questo lavoro, proprio non ti pago. La trama che quindi verte su quali punti principali? Il gioco, il bancomotto diciamo che è un pochettino una caratteristica del popolo navoletano, ma come in questo periodo tutti quanti ricorrono al gioco per cercare di risolvere i problemi che purtroppo è una crisi che sta attraversando in Italia in questo momento. In un modo naturalmente molto ironico, molto divertente, il maestro Edoardo gira i giochi intorno a questa vincita di questi 4 milioni. Siamo dal dietro le quinte di questo spettacolo, siamo con Vincenzo Trosolo e Angelo Ciaranella. Voi cosa interpreterete stasera? Che interpretiamo stasera? Ma se non mi sbagli, mi ricordi cosa interpretiamo? Siamo fratelli? Stiamo recitando, stiamo recitando. È orrore, è orrore. Fratelli Froncillo. Fratelli Froncillo che avete provato tanto per interpretarlo. Diciamo che a noi c'è morto un po' il cane, quindi siamo addolorati da questa situazione. Però è una sofferenza comica. Sì, è perché usciva molto a schiuma, diciamo. La schiuma verde che uscite dalla bocca e non basta. No, quella gialla era da andare. State per salire sulla scena. Devi sapere che il cane sta più morto che vivo. Il nodo. Il nodo. Il nodo. Il nodo. Quella gialla è morta. Stiamo proprio strammatizzando, vedi? Ci stiamo scaricando un po'. C'è molta tensione? Anzi, anzi. Molta ansia. Molta ansia e tensione, ma è sempre così. Sì? Amatona l'ora, te. Sono la coprotagonista. Sono la signora Concetta che sopporta amorevolmente quel marito, come fanno oggi le donne. O no? O sono gli uomini che sopportano le donne? Il marito è un po' rompiscatola. Un po' rompiscatola, lui è questo gioco, otto più, nove più, lampo, è un problema. Anulo, fum. Anulo, fum. Un po' di tutto. Lui, mazzaniello, un po' di tutto, sì, è un minestrone di marito. Sara, Cutola è la prima volta che entra in scena stasera? Sì, è la prima volta e sono molto contenta di fare questa recita perché mi diverte. Tu che comunque fai parte della scuola di teatro di Carinaro? Sì, faccio parte della scuola teatro, però da quest'anno perché è la prima volta. Bruno, stasera sarà una serata particolare qui a Carinaro. Perché? C'è lo spettacolo forse. Dove? Qui sul palco. Qui, davvero? Me ne sono accorto. Buonasera, salve. Io sono Mario Bertolini, Bertolini o Bertolini? Bertolini. Bertolini, Bertolini, Bertolini. Pare di sì. Dunque, dunque sarei il fortunato Mario Bertolini, ma lo sfortunato Mario Bertolini. Insomma, la fortuna della sfortuna. Perché? Perché mentre vingo tanti, tanti, tanti milioncini, poi mi arrivano tutta una serie di disgrazie, disavventure, però alla fine c'è il lieto fine. Una parte molto simpatica la tua, insomma. Ma sì, diciamo, generalmente il regista mi riserva questi ruoli un pochino più divertenti, diciamo. Buon Natale a tutta la compagnia. Ci vuole un po' di pazienza, tanta pazienza per il Rolinto. Insomma, ci lamentiamo sempre? No, no, no. È una squadra che è tutta affiatata, tutta a posto. Franco Grifo, cosa ci fa con questa pistola in mano? Beh, questo è uno strumento intanto non vero, è finto e serve per la scena. Quindi serve in un momento particolare della scena. Che parte interpreterai? Ci sarà una sorpresa. Io faccio il protagonista, Ferdinando Quaiulo, che è il titolare di Un Bangolotto. La commedia si svolge negli anni 40 e quindi rivivremo un po' i momenti salienti di quella che è una cultura partenopea del popolo napoletano, quella del gioco all'otto. E quindi in questo momento particolare di crisi si fa sentire, la gente ricorre sempre di più anche alle giocate con la speranza di vincere qualcosa. Intanto vi auguro Buon Natale a voi della troupe e a tutti i partecipanti e gli spettatori che ci verranno a vedere. Quando la bravura dice a Carlo, ma c'è a Carlo, ma c'è a Carlo, ma c'è a Carlo, ma c'è a Carlo. Dunque, vi aspetto domani alle 4 e mezzo, precisamente alle 16 e 3. Vi aspetto a casa su, l'indirizzo lo conoscete perché una volta è la casa vostra. Firmerete voi una dichiarazione che prepara voi. Portate vostra vita e ci mettiamo una croce su, altrimenti a preparazione in tempo di infamazione, estorsione, ferimento. Come vedete, siete rovini. Come vedete, se mi sparava, ero meglio. Cusina Caroglio, cusina Caroglio, figlio che non vuoi a famiglia mia, prima che era con Brasino l'ha già scaricato un po'. Ora lo faceva a un'esce, lo vedo per te. Che stai scaricato, eh. Mario Sepe che ha curato l'organizzazione generale dell'evento. Un commento sulla serata che sta per iniziare? Questo è un avvenimento che si ripete ogni anno e ogni anno diventa sempre più bello perché è il cuore della compagnia che ogni anno si rinnova anche con nuovi elementi e dà vita a questa che potrebbe essere chiamata l'evento nostro dell'anno. Quindi è un momento di vera e sana socializzazione. Qual è il tuo stato d'animo attuale? Beh, ovviamente adrenalina perché in questi casi se non c'è adrenalina non c'è l'anima dello spettacolo. Io interpreterò Carmela quindi sarò un po' invecchiata ma ciò non mi spaventa perché l'importante è divertire il pubblico. Buon Natale a tutti, auguri, un bacio. Allora, siamo quasi in veste ufficiali, non siamo ancora senza trucche, è vero questa... Sì, sì, siamo ancora originali. Siamo ancora, diciamo, live, ecco qui. Si sta preparando ancora il parroco qua, vedo che ancora è pronto. Parroco, siamo pronti? Siamo con Don Raffaele, console, parroco della parrocchia di San Cosimo e Damiano, un commento. Siamo cimentati in una delle commedie bellissime di Edoardo, Non ti pago. Certo, un titolo un po' non tanto appropriato per il periodo che stiamo attraversando ma sarà sicuramente simpatico perché alla fine esce fuori l'anima buona di Don Verdinando il quale unisce un po' di valori a questo momento che è difficile, veramente difficile per tutti quanti. Finale Crescento Seve, anche questa sera onora con la sua presenza quest'importante iniziativa a Carinale. Sì, è una presenza ormai tradizionale perché ogni anno c'è questo incontro che è molto bello con tutta la cittadinanza e siccome sono figlio di Carinale non posso rimanere fuori e anche per fare omaggio a questi artisti di Carinale che veramente sono bravi, vedo che ogni anno si perfezionano sempre di più. E' un momento di cittadinanza e di comunità che ci ritroviamo un po' tutti e questo è anche un segno del Natale che abbiamo fatto. Dopo una serata ricca di risate è veramente tutto qui dal Palai Glù di Carinaro. Pupia, la tua informazione.